Ad una cittadina terramana è stato staccato il gas o perché? Sì, uno pensa subito che non ha pagato le bollette. La signora aveva pagato le bollette, non solo, ma siccome da due mesi la società di gas che è l'Eni non gli mandava le bollette, le reclamava l'invio di queste bollette. Il trend si è ritrovata senza gas. Ora, che succede? Che l'Eni ha constatato che la signora aveva ragione, però ad oggi, in pratica, ancora non viene riattaccato il gas. Come mai? Ecco, il dramma di questa situazione, ecco perché poi abbiamo convocato questa conferenza stampa e mettiamo in parallelo i due sistemi, è che l'autorità per l'energia non ha previsto questi casi. Per cui questo tipo di reclamo viene gestito come un reclamo normale, per cui può aspettare la signora 40 giorni di tempo, perché questo è il tempo normale che l'autorità dà agli gestori per rispondere a un reclamo, senza gas. Questo è un paradosso vero e proprio. Denunciamo questa disparità tra le due autorità. Cioè, da una parte l'autorità delle comunicazioni. L'autorità delle comunicazioni ha, in questi casi, eccezionali. Quindi, laddove c'è un distacco della telefonia non dovuto all'utente oppure contestato, in pratica l'autorità ha previsto un provvedimento d'urgenza e quindi nel giro di una settimana l'utente riesce a riavere la linea telefonica. Qui stiamo parlando di servizi più essenziali del telefono, perché uno del telefono può anche fare a meno, ma di ravarsi, di mangiare, di cucinare, di riscaldarsi, no. Quindi, per quanto riguarda questi servizi essenziali, in pratica non c'è lo stesso tipo di tutela per il consumatore. Per cui si può aspettare all'infinito che i signori facciano i loro comodi.